Buongiorno, ci troviamo nella clinica Swiss Medica di Belgrado. Siamo qui oggi con il paziente Enrico Beretti che ha l'atrofia dell'idolo spinale. È stato per la prima volta del novembre del 2021, ha fatto il trattamento con le cellule staminali e dopo il trattamento ha notato dei miglioramenti significativi e dopo sei mesi è tornato da noi per fare controllo e questi miglioramenti li hanno confermato anche i nostri medici. Si presenti? Salve sono Enrico Beretti ho 44 anni e vengo dalla città di Castelli in provincia di Perusa. Sono venuto qui a Belgrado a Swiss Medica per provare il trattamento con le cellule staminali perché avevo diversi problemi di salute e avevo forti dolori alle gambe neurologici e forte rigidità alle gambe causata dal mio problema di salute. Io ho trovato una Swiss Medica attraverso internet e io mi sono deciso di venire a fare questo trattamento perché in Italia non c'erano altre possibilità di buca al di fuori insomma dei medicinali per agitare il dolore. Sono venuto a novembre per fare il primo trattamento. Sono stato qui due settimane e ho fatto le cellule staminali intratecali, quelle dove non si per la cordona umbilicale, la placenta neonatale e anche delle iniezioni sulle gambe direttamente per curare insomma il muscolato. Dopo il trattamento ho avuto subito dei benefici perché appena fatto il primo trattamento i dolori alle gambe sono spariti e grazie anche alla fisioterapia e tutto quanto nelle due settimane che sono rimasto qui ho avuto miglioramenti anche alla rigidità delle gambe e alla possibilità di camminare meglio e tutto quanto. Dopo il trattamento ho avuto insomma diversi benefici immediati che poi si sono incontrati nel tempo e anche dopo questi giorni qua hanno confermato che ci sono stati significativi miglioramenti della mia condizione. Come si è trovato nella nostra clinica? Come erano il primo impressione quando è arrivato? La clinica mi si è trovato molto bene, il personale è molto cordiale, molto disponibile, i medici sono molto cordiali e super preparati e anche gli infermieri ho visto che sono molto molto preparati nel loro lavoro. Diciamo che il servizio e l'assistenza che ti danno è veramente molto molto elevata quindi non ti fanno mancare nulla, ti seguono ecco dall'inizio alla fine senza farvi proprio mancare nulla. Raccomanderebbe ad altre persone che hanno un problema uguale o simile al suo? Assolutamente sì perché quello che ho provato io sulla mia pelle è stato solo dei benefici e quindi dico alle persone che hanno dei problemi simili ai miei di provare. Certo la certezza al 100% non c'è però sicuramente dei miglioramenti li avrete e potrete stare meglio. Quanti giorni è durato il suo primo trattamento? Allora sono stato 15 giorni qui a Belgrado a fare trattamenti con le cellule staminali e fisioterapia e poi mi sono trasferito altri dieci giorni a Rosaskas Latina e Slovenia per fare solo fisioterapia. Anche lì ho fatto esercizi, sono stato seguito da un fisioterapista e anche lì ho avuto dei grossi miglioramenti sulla forza e sulla camminata, sulla lunghezza della camminata e tutto quanto. Quindi anche quello è stato molto utile come programma.